ma ciao a tutti ciao, bentornati in un nuovo video io non lo so quando vedrete questo video ma sappiate che è il primo video che registro con la nuova fotocamera che è il mio autoregalo di Natale quindi penso che sarà un mezzo disastro noi ci proviamo a fare un video rilassante nonostante i rumori quindi ho capito che aspettare il momento perfetto mi farebbe invecchiare quindi noi ci proviamo e speriamo bene quello di oggi sarà un video veramente molto semplice in cui vi mostro un decluttering di borse specifico la fase di decluttering vera e propria quindi la selezione delle cose da dar via è stata già fatta da me stamattina off camera adesso vedrete le borse che ho declutterato quindi vi faccio una carrellata di borse che regalerò o darò insomma nei punti di raccolta di abiti usati e ho pensato di fare questo video perché personalmente adoro adoro, 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 adoro adoro tantissimo i suoni delle borse quindi forse farò cosa gradita almeno questa è la speranza iniziamo subito non so se guardare qua o guardare là sono veramente in difficoltà forse devo guardare su non lo so vabbè guarderò un po' giù, un po' su così e iniziamo la prima borsa che ho declutterato è stata sicuramente quella un po' più importante però l'ho declutterata perché non la utilizzavo ho messo in questo sacchetto allora la borsa è questa è un po' impolverata è una borsa come potete vedere di Twinset in questo tessuto che credo sia non lo so è una la metà tra la gomma e la similpelle non so bene come insomma identificare questo tessuto è un color grigio fango è una borsa sicuramente molto grande molto carina perché ha i cuoricini qui che sono proprio il simbolo di Twinset qui c'è la targhettina ha i manici è una tracolla questo è stato un regalo del mio fidanzato un paio d'anni fa e l'ho usata veramente poco perché col tempo sono arrivata alla conclusione che io non amo le borse rigide e non amo questi manici così sottili perché mi segano la spalla e li trovo veramente scomodi soprattutto per chi come me riempie le borse tantissimo io malgrado pur essendo costata un bel po' e pur essendo una borsa praticamente seminuova ho deciso di darla e questa la regalerò alla mamma del mio fidanzato perché penso possa essere una borsa assolutamente adatta anche a una signora e mi sembra doveroso visto che è stato un suo regalo la dono molto volentieri alla alla sua mamma e non so se le piacerà spero di sì ad ogni modo io adesso ci ho messo un po' di buste perché va rimessa in forma è molto carina la trama all'interno che è tutta piena di cuoricini e poi ha le solite tasche insomma è una borsa super super spaziosa e capiente però penso sia il caso di darla a qualcuno che la utilizzerà invece che tenerla lì buttata per altri due anni passiamo a questo punto alla seconda borsa allora devo dire che su questa borsa sono molto 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 indecisa quindi datemi una mano è questa questa qui è una tracollina vintage in pelle blu notte ve la faccio vedere un po' da vicino con questa forma squadrata ma che si va a stondare qui è questo locchino dorato con un leone e tre fedi c'è scritto c'è inciso bursche e anche qui c'è lo stesso lo stesso simbolo sulla zip e poi c'è la tracollina che in questo caso non mi dà fastidio perché sulle borsine piccole la tracolla sottile la concepisco e dietro c'è appunto un'altra taschina questa borsa io la acquistai ad un mercatino ad un mercatino dico se è vintage è stupenda ed è in pelle però non la sto utilizzando non l'ho mai utilizzata da quando l'ho presa adesso l'ho piena di sciarpe per rimetterla in forma quindi non ve la apro però sono molto indecisa probabilmente alla fine la darò datemi un consiglio anche perché non ho altre borse blu così vintage di pelle è un pezzo unico della mia collezione sì però per il momento la metto da parte perché devo capire cosa farci vado sicuramente a declatterare invece tutte le altre che vedrete da questo momento in poi partendo da questo zainetto uno zainetto uno zainetto di Marina Galanti abbastanza spazioso mi ha mi ha accompagnata in tantissime avventure l'ho usato veramente tanto ha una linea veramente basic di simile pelle ovviamente non è in pelle e l'ho usato semplicemente perché ho un altro zaino nero quello di Rebecca Minkoff che utilizzo molto di più e devo dire che dovevo fare una premessa ultimamente le borse sono sempre state una mia passione insieme alle scarpe più dei vestiti mentre sui vestiti vado tranquillamente sul low cost perché mi piace cambiare su borse e scarpe sono più esigente e in particolare con le borse sto iniziando a collezionare pochi pezzi in pelle e dar via o mettere un po' da parte le borse in simile pelle che inevitabilmente durano meno e hanno una resa peggiore solitamente e in virtù di questo non ho bisogno di un altro zainetto nero in simile pelle anche un po' usurato quindi lo do via devo dire che però è stato un ottimo compagno di viaggio e tra l'altro è costato poco perché lo pagai sui 30 euro addio mio caro compagno zainetto poi do via senza dolore questa borsina che ci farà piacere perché ha questa catena che fa tanti rumori nei pelli e io questa veramente non so da quanti decenni ce l'ho e non so perché ho continuato a tenerla visto che non la utilizzo veramente da tempo in memore è una borsetta ha qui il lucchettino di Baixa che è un negozio di accessori che ricordo che esisteva molto tempo fa non so se esiste ancora è praticamente un vellutino grigio e poi ha la sua tracolla e ha anche però che no tracolla più corta appunto costituita da questa catenella dorata e poi si chiude così è carina graziosa ma non la utilizzo quindi mi sembra quantomeno inutile tenerla mi sembra proprio inutile continuare a tenerla qui lo Kino Baixa questi sono i suoi suoni adietro vado a declatterare questo zaino che mi è arrivato da poco da un sito se non erro new chic quindi sicuramente ve lo ricorderete ma mi ha delusa perché è troppo piccolo me l'aspettavo decisamente più grande quindi e questo qui anzi forse mi sto confondendo questo ve l'ho fatto vedere l'anno scorso mi sto confondendo con un altro zainetto e questo l'avete visto l'anno scorso è uno zainetto in paglia che è molto carino perché ha questa parte in simi in pelle color rosa marfa così come le le tracolline insomma dietro non mi viene mai il termine di queste cose che si mettono sulle spalle delle non mi ricordo si è carino ma non l'ho non l'ho mai utilizzato e quindi ho deciso di sparazzarmene perché non ho spazio non ho più spazio per le cose inutili ragazzi devo dar via poi da quando ci sono le collaborazioni arrivano tanti vestiti tanti accessori il che mi fa piacere perché mi piace provare le cose magari mi piace anche utilizzarle per un po' poi cambiare però è necessario sapersi separare dagli oggetti quando diventano inutili e quindi sto cercando di conciliare la mia voglia di comprare di ricevere di avere cose con la necessità di avere spazio e solo cose di utilizzo effettivamente poi questo è il declutter degli zaini perché decluttero altri due zaini allora uno è questo che ricevetti sempre da una collaborazione forse con Zafulo ogni uscicato ma questo è veramente brutto certo è troppo plasticoso è in forme non mi piace non mi piace proprio l'ho utilizzato qualche volta ma si vede che è proprio scadente di qualità e quindi sembra cartone e quindi via fatto così con questa forma strana un po' a trapezio ma la cosa brutta è che questa chiusura non ha neanche un bottoncino quindi rimane sempre un po' un po' semiaperto e niente secondo me si vede proprio che è fatto male questo aveva anche i bottoncini per allargarsi e poi stringersi io poi devo dire che a mia devo darmi questa colpa io ho le borse e le le stipo una sull'altra e quindi inevitabilmente perdono la forma si schiacciano si deformano e anche questa cosa la devo modificare sto cercando insomma di riporle in maniera più consapevole più con cura perché se una cosa si conserva bene dura anche meglio nel tempo ovviamente l'ultimo zaino che vado a declatterare è lui un altro zaino color gambello sempre in similpelle questo questo era di pull and vero e devo dire che a differenza dell'altro a differenza dell'altro questo invece è stata ha fatto veramente una buona resa pur essendo in similpelle si è comportato benissimo l'ho utilizzato moltissimo al mare perché è super capiente cioè enorme questo va bene anche se dovete passare una notte fuori e volete portarvi un cambio lo do semplicemente perché non lo uso utilizzo altre borse mare ultimamente e poi qui vicino alla taschina si è tutto spellato quindi direi che ormai ha fatto il suo tempo ci sono ovviamente fazzoletti anche usati che vi risparmio però era veramente carino sembra proprio uno di quelli zaini da campeggio o da viaggio o da esploratore è bellissimo però ormai non l'uso perché è un po' rovinato nulla io ho finito l'unica cosa che mi è rimasta da farvi vedere ma non è una vera e propria borsa è un borsone da palestra che è semplicemente questo vabbè non c'è molto da vedere è un borsone di gas che ho usato moltissimo tanti anni fa quando giocavo a pallavolo e adesso utilizzo altri tipi di borsone borsoni che sono adatti a contenere le racchette quindi è inutile che mi tenga questo perché non lo uso più peraltro si è un bel po' rovinato quindi è il caso di darlo via l'unica cosa che devo salvare è questo è questo brutta chiavi lo devo togliere che ha una pallina da beach tennis di di una marca insomma che fa accessori e attrezzatura da beach tennis quindi questa la voglio sicuramente salvare e appenderla al mio borsone da beach e quindi salutiamo anche lui e niente ragazzi e ragazze questo è il mio decluttering di bors attendo un vostro consiglio su quella vintage blu che sono molto indecisa grazie per essere stati con me in questo video molto semplice spero che siate trascorrendo un ottimo periodo natalizio festivo scusate se il mio sguardo in questo video è stato ballerino ma vi giuro io devo ancora capire dove guardare e lo capirò presto presumo adesso vi saluto a molto presto ciao amici ciao amici ciao 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 amici ciao ciao amici ciao ciao